99 stelle in cielo, più una fanno 100 Abbiamo portato a compimento un progetto e abbiamo omaggiato il sindaco della conclusione, insomma, dell'organizzazione di questo progetto che è stato un videoclip realizzato con i bambini in una sala di registrazione in cui loro hanno potuto interpretare un brano consegnatoci dal maestro Monfili un brano che si rifà all'idea del piccolo principe, al fatto che ciascuno di noi porta dentro di sé un pezzettino del proprio essere bambini e desidera cose grandi Così in sala consigliare è stato presentato il videoclip della canzone 99 stelle che dieci anni fa partecipò al concorso Il Cuoricino d'Oro Mi dispiaceva usarla soltanto per questa occasione e allora ho chiesto a Benedetta Cambiani se si poteva fare qualcosa Abbiamo appunto invastito questo coro di bambini, sostanzialmente un video bellissimo fatto da Lorenzo Testa e ecco questa canzone ha avuto questa rinascita Il testo vive di immagini e di emozioni più che una storia quindi il fatto di camminare a testa alta e di renderci conto di quello che ci succede intorno e di condividere vale molto di più che continuare a camminare con la testa bassa e non godere di tutto quello che ci sta intorno a tutto questo scritto in modo poetico utilizzando anche il linguaggio delle favole, i personaggi delle fiamme Non ci sarà più nessuna forza di gravità